I miei tempi era frutta d'oro, parlo del marzo del 1978, primo lavoro in cooperativa apora a Gatteo sotto la presidenza dell'avvocato Antonelli, sono stato lì in attività per dieci anni circa, poi sono passato negli uffici dell'associazione, abbiamo messo in piedi l'ufficio vendita di tutte le cooperative del fresco, 39 anni si ricorda il lavoro come era una volta che si sapeva più o meno quando si iniziava a lavorare però non si sapeva mai quando si finiva, io parlo di ore anche che possono sembrare follie adesso per quelli che lavorano nel fresco ma non c'erano orari, si finiva a mezzanotte, a luna, si lavorava anche il sabato, si lavorava anche la domenica fino a mezzogiorno. Auguri ai giovani di affezionarsi sempre di più all'azienda e cercare di fare del progresso sia come persona che come azienda, senza limiti, senza obiettivi e senza avere come obiettivo la pensione, di andare in pensione, quello lì non è un bello obiettivo per tutti.